Parigi adesso, perché poco fa sulla questione dei migranti c'è stato un bilaterale tra il ministro Piantedosi e il suo omologo francese. Andiamo in diretta con la corrispondente, Giovanna Botteri. Il ministro degli interni Piantedosi ha appena finito la sua visita ufficiale qui a Parigi. Ha visto, come ricordavi, il collega Darmanin con cui ha parlato essenzialmente di flussi migratori, ha parlato di immigrazione sull'onda, di una polemica che l'ha accompagnato dopo le dichiarazioni di questo pomeriggio. La disperazione non può mai giustificare, aveva detto, Piantedosi, condizioni di viaggio in cui si mettono in pericolo la vita dei figli. Gli abbiamo chiesto se conferma quelle dichiarazioni e ecco quello che ci ha detto. La tragedia immane, enorme. La mia presenza ieri, a nome di tutto il governo, testimone la grande sensibilità, il grande cordoglio che abbiamo rivolto a questa tragedia. Tutto questo ci impone anche di scegliere la postura giusta, le espressioni giuste, ma trovo ancora più vergognose delle espressioni di speculazioni che si fanno intorno a questi argomenti, anche da parte di persone che non sanno quelle che sono le azioni concrete che questo governo ha fatto per qualificare realmente la disperazione mondiale e farsene carico per quota parte.